Una ferita nel cuore dell'isola, il degrado del Piemonte della Misericordia colpisce come uno schiaffo il turista che percorre il bel lungomare di Casamicciola e che sicuramente si chiede cosa ci faccia questo mega rudere fatiscente in una località ridente, in un posto di vacanza, dove tutto dovrebbe essere perfetto, o quasi. Ma con questo gigante che si sgretola di anno in anno sempre di più, siamo molto lontani fino anche dall'idea minima di decoro urbano e di estetica architettonica di un paese civile un pugno nell'occhio a cui persino noi che sull'isola ci abitiamo non ci siamo mai abituati, rassegnati forse, questo sì perché sono tonnellate di anni che si parla di recupero e di interventi, occasioni perse o mai neanche nate che pesano come le macerie del Piemonte sulla storia urbanistica di Casamicciola e non solo senza entrare nel merito della vicenda del complesso e della sua ex storia gloriosa il Piemonte, come tutte le aree fatiscenti del mondo, è diventato una forza centrifuga di ulteriore degrado alle macerie degli edifici settecenteschi si aggiungono i cumuli di altre macerie portate qui chissà da dove approfittando del potere mimetico di questa enorme rovina chi deve disfarsi di materiale edilizio o di rifiuti pesanti viene qui e getta tutto ai piedi delle mura che cadono e poi ci sono i rifiuti fino a qualche giorno fa c'erano cumuli e cumuli di mondizia sono stati rimossi ma torneranno come sono sempre tornati per la legge dell'incuria che è sempre un fattore esponenziale persino i contenitori di raccolta dei vestiti usati che dovrebbero rappresentare un gesto ecologico un gesto anche sociale perché questi abiti vanno a persone povere persino questi contenitori sono in uno stato immundo vestiti, scarpe, coperte, buttate per terra accumuli come vecchi stracci sporchi e inutilizzabili uno spettacolo che si offre a chi varca il viale principale del Piemonte quello per intenderci di fronte al lungomare